Buongiorno amici di Video Servizi, oggi siamo ad Asti, al polo universitario Rita Levi Montalcini, con il presidente del consorzio Asti Sudi Superiori, Mario Sacco, e con il magnifico rettore, professor Stefano Genua. Buongiorno e benvenuti, subito una prima domanda. Avete parlato di un incremento di studenti per l'università di Asti, quindi è una sfida e un traguardo notevoli. Sì, vuol dire che abbiamo lavorato bene in collaborazione con l'università di Torino, che abbiamo investito, ma ci fa dire che dobbiamo maggiormente investire proprio in un momento di difficoltà causato dal Covid, abbiamo investito in nuove tecnologie da poter fare didattica a distanza, ma anche, come dire, abbiamo investito molto nei laboratori, avevamo già quello di scienze viticole e tecnologie alimentari, adesso abbiamo investito molto nel laboratorio di infermieristica, proprio perché abbiamo qui ad Asti dei corsi, direi importanti, per due motivi soprattutto. Uno, perché sono molto legati al territorio e alla realtà socio-economico appunto dell'Astigiano, ma in secondo luogo perché creano veramente delle possibilità di sbocco occupazionale, specialmente parliamo di infermieristica, abbiamo anche l'agenzia di operatori socio-sanitari, abbiamo anche servizi sociali, cioè tutti i corsi, insieme chiaramente a scienze viticole e tecnologie alimentari, molto legati a un territorio come il nostro, di caratterizzazione vitivinicole, ma anche scienze motorie, che effettivamente è un corso che dà ampie possibilità in questo momento. Quindi un incontro che sarà il primo, perché comunque le due università vogliono dare non solo speranza, ma una certezza di più ancora ai giovani. Ma io penso proprio di sì, perché proprio questa pandemia ha dimostrato che bisogna guardare avanti e investire sui giovani, e quindi meglio della formazione, in questo caso universitaria, grazie anche alla collaborazione, dicevo, con l'Università di Torino, che ci permette appunto di ampliare lo spettro di corsi di formazione, in questo caso universitari, proprio nell'interesse, direi, del Piemonte. Ecco, quindi diventiamo veramente un polo che ha una collaborazione forte con Torino, con la sua università, ma è rappresentativo di un territorio importante. Quindi un modo ulteriore per conoscere il territorio, non solo a livello Piemonte, ma su scala nazionale e non? Ma direi di sì, tra l'altro sempre con l'Università di Torino abbiamo raggiunto degli obiettivi importantissimi, anche a livello di qualità. Scienze motorie ormai sono tre anni che è il primo corso in Italia, abbiamo scienze viticole al cui corso partecipano studenti da tutto il mondo, non soltanto dall'Italia. Quindi direi veramente la possibilità di specializzare i giovani e creare le condizioni che tutti sperano di trovare quasi subito lavoro, cosa che succede. Anche perché con lo smart working comunque l'Università è arrivata a notevoli traguardi? Sì, diciamo che non ha perso la strada, nel senso che grazie agli investimenti tecnologici, anche qui devo dire alla collaborazione operativa dell'Università di Torino, abbiamo dotato tutte le aule delle più avanzate tecnologie per permettere da un lato, in presenza che ci auguriamo al più presto, di tornare a una certa normalità, ma nello stesso tempo la possibilità di fare didattica a distanza e di avere una sala regia che permette di registrare le lezioni e quindi di avere un collegamento tra chi è in presenza con i docenti che possono essere in presenza o a distanza e altri studenti che invece possono essere a distanza. Quando gli studenti addirittura sono iscritti da tutto il mondo, comprenderete che la didattica a distanza assume un valore importantissimo. Penso che l'aspetto della socializzazione e della presenza sia tranquillamente compatibile con una didattica a distanza che ti permette quello che effettivamente in questo momento abbiamo bisogno. Perfetto, la ringrazio. Grazie a lei. Buona fortuna e uno in bocca al lupo. Grazie. E ora passiamo al magnifico rettore, non per questo meno importante, il magnifico rettore, professor Stefano Genua. Volevo chiederle, progetti, investimenti tra le due università e perché no anche Asti Torino? Assolutamente. Il nuovo corso dell'Università di Torino, che è stato sancito nelle ultime settimane dalla definizione del piano strategico da qui al 2025, prevede proprio un potenziamento delle sedi multicentriche. Quindi un'università che non è più solo l'università di una singola città a Torino, ma un'università di un territorio, di un ampio territorio che più di metà del Piemonte in qualche misura ruota intorno proprio geograficamente al nostro Ateneo e diventa quindi una sorta di punto privilegiato nel quale investire. Sicuramente dove ci sono sedi dinamiche come qui ad Asti, la possibilità di costruire, pensare, una nuova offerta formativa, nuovi corsi di laurea è una realtà e ci stiamo lavorando ormai da tempo. Quali possono essere anche le differenze tra le due università che hanno stimolato e creato nuovi progetti? Sicuramente le università, ma la nostra università in particolare, oggi vogliono essere università di prossimità. Quindi il fatto stesso di insistere in un territorio diverso, con istituzioni differenti, seppur vicine geograficamente, ma sappiamo bene quanto può essere diverso una grande città da un territorio invece più vocato a una cultura dell'agricoltura, delle tradizioni, sia un valore. Quindi qua la diversità è che, pur essendo a pochi chilometri da Torino, una realtà differente sotto tanti punti di vista, pensiamo anche agli aspetti imprenditoriali, industriali. Quindi essere presenti è anche un'occasione di valorizzare le realtà territoriali. Quindi da quello che mi dice, noi abbiamo sempre parlato di una possibilità di lavoro per i giovani, però non ci sono solo giovani a quanto pare. No, la formazione universitaria di oggi è anche formazione degli adulti, cosiddetta, formazione per tutta la vita. Quindi complessi didattici avanzati con tecnologie, oggi abbiamo visto in particolare quella per la sanità, un nuovo manichino di ultima generazione, permettono non solo di formare e istruire i giovani, i giovanissimi, ma anche i professionisti, infermieri, medici già attivi, che possono continuare a migliorarsi, apprendere nuove tecniche proprio grazie alle strutture educative. Quindi l'università che non è solo più i corsi di laurea tradizionali, ma è veramente una porta aperta lungo tutta la vita di coloro che lavorano, di coloro che cercano lavoro. Quindi anche la possibilità di aiutare chi magari ha perso il lavoro in un certo settore per la crisi economica a riconvertirsi su un nuovo settore per poter trovare un lavoro rapidamente. Siamo un po' usciti dagli schemi per il Covid da circa un anno. Quali possono essere stati i pro e i contro dello smart working e del cambio di mentalità? Il contro è il contesto nel quale si è verificato, ovviamente una tragedia a livello globale e anche il fatto che si è realizzato in tempi rapidissimi. Ma la reazione, mi riferisco in particolare alla didattica a distanza delle università, è stata veramente eccezionale. Qui voglio ringraziare il corpo docenti, ma anche le studentesse e gli studenti che hanno saputo in così poco tempo adattarsi. Questa è una grandissima risorsa anche per il futuro, perché da domani, anche quando si tornerà in presenza, già nei prossimi mesi prevediamo un ritorno nelle aule, in parte progressivo, magari prima rivolto solo alle matricole e poi esteso a tutti, ma anche nei prossimi anni, quando si tornerà a una normalità, la possibilità di avere tecnologie che permettono di mandare in onda le lezioni in tutto il mondo, sarà un grande aiuto, pensiamo a studentesse, studenti lavoratori, studenti che vengono dall'estero, che potrebbero rimanere qua solo alcuni periodi e seguire il resto delle lezioni da casa. Questo ci apre delle frontiere estremamente interessanti. Perfetto, per ora un in bocca al lupo sia per Asti sia per Torino. Per ora è tutto e ricordatevi, video servizi è parte del tuo mondo. Arrivederci presto.